ciao a tutti in questo breve video vi faccio vedere come si potrebbe avviare il lavoro senza avviare catenelle iniziale questo metodo si potrebbe usare quando il primo giro è di mali alte questo pezzettino io ho avviato normalmente avviando le catenelle ho fatto ma le alte e adesso vi faccio vedere altro modo quindi facciamo la prima catenella che e facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 gettiamo filo entriamo con uncinetto nella prima catenella questa e tiriamo filo adesso su uncinetto abbiamo 3 catenelle lavoriamo solo prima tiriamo un pochino a filo e lavoriamo normalmente male alta adesso gettiamo di nuovo filo entriamo in questa catenella che l'abbiamo creato e facciamo lo stesso lavoro tiriamo filo lavoriamo solo questa catenella e lavoriamo normalmente male alta gettiamo filo entriamo già si può vedere meglio come si crea la catenella quindi continuiamo lavorare in questa maniera entriamo qui tiriamo filo lavoriamo solo questo tiriamo un pochino perché il filo deve essere all'altezza uguale a queste due mali precedente e lavoriamo male alta che faccio vedere ancora entriamo in questa maglia tiriamo lavoriamo solo questa arriviamo altezza uguale e facciamo normalmente male alta e così in questa maniera noi continuiamo lavorare fino a quando non arriviamo alla misura giusta che ci serve ho lavorato un pochino per far vedere la differenza a voi come possiamo vedere questo campioncino è avviato in modo classico prima ho avviato le catenelle e poi ho lavorato con male alte invece questo ho fatto con questo modo che avevo fatto vedere prima e come possiamo vedere il bordo è molto più elastico e questa catenella che si è formata qui sotto non tira secondo me è molto efficace per realizzare le cuffie soprattutto poi vedete voi un modo che si potrebbe adattare a vari lavori spero che questo piccolo consiglio vi è stato utile e il video è stato chiaro e ci vediamo presto ciao ciao